Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come avviare il trionfo segreto per l'involucro Eidolon. Prima di continuare con il video però ragazzi vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale così da potermi supportare nel caso in cui vi sia stato d'aiuto e vi sia servito il video. Come prima cosa dovete sapere che il trionfo sarà momentaneamente segreto però non appena troverete una statuetta di calus e la posizionerete il trionfo cambierà e si chiamerà fan numero 1. La prima statuetta che vi consiglio di prendere sarà un po' complessa ma almeno la farete subito e vi leverete il pensiero mentre le altre saranno tutte facili. Per ottenere la prima statuetta dovrete andare sulla luna e sull'Eviatano dovrete selezionare contenimento poiché questa modalità sarà quella che vi servirà per ottenere la prima statuetta. Ora qui sarà una questione di dove partirà l'attività contenimento e come il secondo contenimento sarà posizionato poiché a seconda delle condizioni vi potrà aprire una delle 5 porte in giro e solo una sarà quella giusta dove si troverà la statuetta. Quindi la seguente combinazione sarà quella giusta per avere la stanza dove si troverà la statuetta. Una volta che sarete arrivati al terzo contenimento e lo avrete completato vi basterà seguire il percorso che faccio nel video e così riuscirete a raggiungere la stanza dove si troverà la statuetta da raccogliere. Quando avrà finito riferisci al corvo che vorrei parlare con lui. Parlerò con te imperatrice ma da pari a pari. Dopotutto siamo entrambi nobili e faresti bene a ricordartelo. E tu faresti bene a ricordare che ti sono superiore. Inchinati come ti inchini a quella serpe di tua sorella. Per avere la seconda statuetta invece vi servirà avere l'impresa recissione che la sbloccherete andando avanti con la storia. Mentre per ottenere la terza e la quarta vi basterà soltanto avviare sulle viatano Castellum e poi potrete esplorare in giro e vi basterà seguire il video dove vi faccio vedere il percorso per raggiungerle. Una volta che avrete recuperato tutte e quattro le statuette vi basterà soltanto recarvi ad elme e dovrete andare dove si trova la corona del tormento e alla sua sinistra troverete dei foglietti come succedeva per le falene lucenti. Quindi dovrete avvicinarvi e le potrete posizionare e così riuscirete ad andare avanti con il trionfo fan numero 1. La mia spiegazione termina qui ragazzi spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non sia stato chiaro scrivetemelo nei commenti e vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Quegli Elixney meritavano di riposare in pace. Chegli Elixney Grazie a tutti 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 Grazie a tutti